Poi il resto fa tutto lui. Ciao, come ti chiami? Alessandro. Alessandro da dove vieni? Brescello. Brescello? Oh, con Peppone. Vabbè, Brescello-Parma non è che sia molto lontano. Amico di Peppone, sai quelle cose lì? Sì. Io mi chiamo Mimmo, benvenuto in BFU. Sono il tuo videoman. Grazie. Dovrei essere sempre davanti a te anche in caduta libera. Se vedi lui c'è un problema. Si chiama Sanzi? Gabriele. Chi lui? Gabriele per gli amici. Ma non so se amico. Sanzi. Magari dopo. Puoi lasciare. Puoi lasciare. Non so se non si è piano, bravo. Puoi lasciare. E' stasera. Puoi lasciare. Puoi lasciare. Puoi lasciare. Puoi lasciare. Grazie a tutti. 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 Yeah! Yeah! Rock'n'Roll! Buota esperienza ragazzi. Vieni! Sotto? Vai! Non te la togli l'imbragatura, tieni te la, tieni te la. Yeah! Saluta il capo. Bella! Grande! Abbiamo fatto riuscita a rock'n'Roll! Bellissimo! Ehi, biondo, fai così, dai, ancora di più! C'è ancora il cuore che... Eh sì, ma ti passerà! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao! 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 Ciao!